La clinica di riabilitazione toscana ha dimostrato che i cittadini che l'hanno incontrata sono stati soddisfatti. Quello che manca forse è un po' di notorietà. Dobbiamo lavorare di più perché tutti possano capire come lavora, cosa si fa lì e come viene fatto, perché anche il come è importante. Cioè è giusto capire che gli investimenti che questa sanità fa in generale sono investimenti per migliorare continuamente la ricerca e quindi la pratica clinica a letto del paziente. Una struttura all'avanguardia, vero e proprio fiore all'occhiello dell'ASL Toscana Sud-Est che ne detiene la maggioranza del pacchetto azionario. Parliamo della clinica di riabilitazione toscana che ha il suo quartier generale all'ospedale di Santa Maria della Gruccia in Valdarno e che ha commissionato alla SVG un'indagine conoscitiva che attraverso 2000 interviste ai cittadini toscani ha tastato il polso alla sanità e dai servizi che il centro offre. Quattro persone su cinque danno un giudizio positivo del sistema sanitario regionale, una persona su cinque ne dà un giudizio critico e in particolare sulla velocità dell'erogazione delle prestazioni, sul timore di una certa carenza di personale e sui costi elevati. Oltre 1200 ricoveri l'anno e 60.000 prestazioni ambulatoriali, un modello quello del centro di riabilitazione che piace nell'8.6% dei casi e che presto vedrà l'ingresso nel board dell'azienda ospedaliera senese. Sono dati che ci gratificano perché fra l'altro sono migliorativi rispetto a quelli che avevamo già buoni negli anni passati. E' stata quindi una sfida che io definirei vinta. L'azienda ospedaliera senese dovrebbe nei prossimi giorni concretizzare l'acquisto di alcune quote, entrare in società e più che questo è importantissimo gli accordi che sono stati fatti con l'azienda ospedaliera di migliorare tutti i percorsi fra azienda ospedaliera, clinica di riabilitazione e territorio.